Il sindaco lo aveva annunciato nei giorni scorsi. Ora, in concomitanza con l'avvio dei 15 giorni di festa, Giuseppe Monti lo ha confermato. A Premosello Chiovenda non sarà tollerata l'ubriachezza molesta. La movida dovrà sottostare alle regole decise dal comune. Succede dopo le risse scoppiate a Cuzzago in occasione della festa per l'inaugurazione dei campi da beach volley. Come primo atto, l'amministrazione ha chiesto e ottenuto dall'organizzazione dei festeggiamenti la presenza in città di bodyguard. Nel corso delle due settimane di festa saranno intensificati i controlli. Servizi mirati verranno effettuati lungo le vie e le piazze del paese da parte degli agenti della Polizia Municipale. Appositi servizi di vigilanza sono stati concordati con le forze dell'ordine. Il sindaco Monti ha avuto alla vigilia dell'avvio della festa un incontro con il comandante della locale stazione dei Carabinieri. specifica ordinanza sindacale disciplina la vendita di alcolici durante la festa. Sarà vietata la vendita di superalcolici e cocktail con gradazione superiore 21 gradi. Non sarà permessa la vendita di bevante in vetro sia agli stand della festa che nei bar del paese. Aveva annunciato tolleranza zero e sarà così, dice Monti. Dobbiamo evitare che momenti spensierati si trasformino in fatti di cronaca. La movida molesta non a casa a Premosello Chiovenda. Noi ci proviamo, confidiamo nel buon senso della gente. Grazie a tutti.